Tema dell'edizione 2024 è la connivisione degli spazi pubblici urbani dove vive oltre il 70% dei cittadini. La settimana europea della mobilità è aperta naturalmente alla città. Sono tutti invitati a unirsi con azioni o eventi che promuovono un cambiamento comportamentale verso una cultura della mobilità urbana più sostenibile. Per sapere come proporre un evento consultare la pagina dedicata sul sito romamobilita.it